Teenage Mutant Ninja Turtles, dalla IDW, edita in Italia da Panini, numero 11. Parliamolo insieme perché sta arrivando un personaggio molto importante. Woblaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica dedicata alle tartarughe ninja, che anche settimana scorsa ha subito una pausa dovuto al mio viaggio al Festival del Fumetto di Novegro e al mio non aver preparato il video in anticipo onestamente, ma appunto stavo preparando il cosplay e quindi ho lasciato un pochino perdere il canale, quindi abituatevi anche a queste cose ogni tanto perché sto cercando di ampliare di nuovo i miei orizzonti, ma sono con voi a parlare di nuovo di tartarughe ninja. Non ne parlo di sabato, ma ne parlo di domenica perché volevo dare anche un po' di aria al video di Samuel Sterna che è uscito venerdì sera, ve lo metto magari anche qua nelle schede se volete dare un'occhiata anche alla rubrica Samuel Sterna. Con voi oggi parlerò di tartarughe ninja numero 11, iniziano a arrivare nuovi personaggi e le citazioni si sprecano e io sono felicissimo, ma con anche una piccola... qualche piccola lamentela grafica che vi esporrò qua di seguito. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano le tartarughe ninja, condividetelo su ogni social, su Facebook, dove cavolo volete e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di questo video, scrivete qual è la vostra tartaruga ninja preferita, seguitemi anche sugli altri miei social, soprattutto Instagram e Twitch appunto per seguirmi anche su quello che faccio fuori da YouTube. Ringrazio Mario per questa fantastica maglietta a tema che volevo mostrarvi in questo video. C'è da dire che questo numero prende da due numeri americani, di cui uno è la Teenage Mutant Ninja Tartos Micro Series. Ogni tanto inizieranno a esserci di queste due storie per volume. Ci saranno una storia presa dalla serie regolare e una storia che sono una sorta di spin-off fondamentalmente, ma non temete, non cambia nulla a noi, da noi in Italia sono arrivati come unica serie perché sono in perfetta continuity. Il primo numero gira tutto attorno a April O'Neil, che faccio un piccolo riassunto. In questo contesto non è una giornalista come nel cartone dell'87, non è una giornalista come nel film degli anni 90 o del reboot del 2014, ma è una scienziata, esattamente come nel fumetto originale nella serie Tartarughe Ninja del 2002, però hanno cercato comunque di darle un'età molto giovane, ma non troppo giovane come quella dell'April O'Neil della serie del 2012. Credo sia più o meno una studentessa universitaria, suppongo al primo anno di università, o addirittura potrebbe essere una ragazza che sta frequentando il liceo, perché lei lavora come scienziata in qualità di stagista, un po' come Gwen Stacy nel primo The Amazing Spider-Man, che era al liceo ma faceva lo stage alla Oscorp insieme a Kurt Connors. Qua è più o meno la stessa cosa, in questo modo lei è legata comunque alle Tartarughe dal punto di vista del fumetto, essendo una scienziata, ma anche un'età molto giovane per non essere troppo adulta rispetto alle Tartarughe Ninja. È un numero apparentemente distaccato da quello che sta succedendo nella serie regolare, di cui poi parleranno un po' di più nella secondo capitolo. Vediamo le Tartarughe Ninja nel furgone Volkswagen di April O'Neil, giallo, quello assolutamente non modificato da Donatello, quindi non è ancora il tartafurgone, non ricordo se in questa serie lo diventerà mai. Ci sono le quattro Tartarughe Ninja che stanno giocando con una sorta di abrimagic, scusate la pubblicità, a forma di palma, e stanno parlando del fatto che appunto sono un po' preoccupati anche per Baxter Stockman, che è colui che aveva, diciamo, creato i Mauser, che hanno fondamentalmente una sorta di ricerca radio per quanto riguarda, non so se le Tartarughe o Splinter, e dal momento che ora non vivono nemmeno più sottoterra perché hanno abbandonato la loro casa e vivono nel negozio delle seconde occasioni, esattamente come è successo anche nel film e nella serie a fumetti originale, è molto più probabile che i Mauser possano trovare più facilmente la loro nuova base operativa, e quindi stanno cercando di capire come fare per impedirlo. Aprile O'Neill, che appunto è tuttora una stagista alla Stockgen, si intrufola di notte con questo completo alla Catwoman, si intrufola di notte alla Stockgen per recuperare il telecomando che comanda appunto queste frequenze, in modo che Donatello lo possa studiare e possa trovare una sorta di schermatura radio per evitare di essere rintracciati da Baxter Stockman. Questa è la premessa per far entrare Aprile di nascosto in una zona della Stockgen dove ci sono appunto gli esperimenti più occulti, sappiamo già che le Tartarughe Ninja sono stato un esperimento della Stockgen con il mutageno che il generale Krang dalla dimensione X ha fornito a Baxter Stockman, qui vediamo che le Tartarughe Ninja e Splinter non sono gli unici esemplari, ma ci sono altri esemplari in studio, per esempio il famoso soggetto numero 6 che noi vediamo essere nei flashback una testugine, non sembra una tartaruga d'acqua, sembra una testugine, in realtà sembra una piccola tartaruga alligatore, e poi ci arriviamo su questo, nel senso che non è molto chiaro da come l'hanno disegnata che tipo di tartaruga sia, è sicuramente una tartaruga di terra, è sicuramente perché arriverà e lo si vede nella sua incarnazione più simile al fumetto del 1987, è sicuramente Slash, Slash sta finalmente arrivando, è molto figa l'accettazione alla palma, come dicevo all'inizio c'è questa palma a cui Slash nel cartone animato del 1987 era molto affezionata, nel cartone era la tartaruga da compagnia di, non so se di Bebop o di Rocksteady, qua chiaramente Bebop e Rocksteady non sono ancora apparsi, anzi vediamo le tartarughe affrontare prima altri mutanti di Bebop e Rocksteady, e questa mescolanza di carte in tavola mi piace molto, il riferimento alla palma è stato davvero fichissimo, perché appunto Slash era ossessionata dalla palma che aveva quando era una tartarughina, e da quella palma potevi in un certo senso approfittare della sua ingenuità per scagliarla verso i nemici, ecco qua vediamo questa fantastica vignetta in cui Slash finalmente esce dalla Stockgen con ancora in mano la palma, e qua ha il fantastico aspetto che dovrebbe avere Slash, ovvero con gli occhi diversi, con un'eterocromia di fondo, ma con il viso molto simile alle nostre tartarughe ninja, e qualche, come si dice, esternazione ossea in più, qualche artiglio ossea in più che esce dalle spalle, dalle scapole, come è Slash. Bellissimo, peccato che nel secondo numero, appunto dove mostrano i flashback in cui stanno cercando di studiare Slash, e mostrano come l'hanno mutata non più con il siero originale e con il mutageno originale, ma con quello che hanno ricavato dal sangue di vecchio diavolo, e quindi diciamo è un pochino più impura questa mutazione, questa trasformazione, ed è anche un po' più lenta, ed è per questo che non è tuttora adulta, non era tuttora adulta nei flashback come è successo con le tartarughe ninja. Peccato che nel numero successivo appunto Slash abbia già questo aspetto, questo aspetto che la riconduce molto di più a una tartaruga alligatore, tra l'altro questo aspetto di Slash che ricorda una tartaruga alligatore, lo abbiamo anche visto in un certo senso anche nella serie animata del 2012, quella in CGI, però lì era abbastanza chiaro che Slash fosse una testuggine, era la testuggine Spike affezionata a Raffaello, quella che era l'animale di compagnia di Raffaello. Qua invece non si capisce molto, però sembra molto di più una tartaruga alligatore, e voi direte, ma perché non vuoi che si assomigli a una tartaruga alligatore? Perché la tartaruga alligatore per antonomasia è Tocca, quella che abbiamo visto in Tartarughe Ninja 2, il segreto di Huz. In questo universo Tocca non è ancora apparsa, spoiler, fino al numero 50 non ci sarà, ve lo dico, però se in futuro apparirà sarebbe un po' una sorta di Slash 2.0, invece se avessero lasciato questo aspetto a Slash sarebbe stato molto più figo, avrebbe avuto una sua caratterizzazione. Qua invece, e da qua in poi ve lo dico già, Slash avrà sempre questo aspetto molto più minaccioso. Tra l'altro avrà, qua in questo secondo numero, vediamo Slash che strappa degli stracci neri e se li mette come fascia sulla testa, per ricordarci la Slash, quella giocattolo, quella con la bandana nera, perché nel cartone non aveva una bandana, però questa bandana va e viene, andrà e verrà e finalmente riceverà una bandana nera ufficiale più avanti nella storia, ma non vi voglio spoilerare perché è una trama molto interessante, ma ve la dirò a tempo debito. Fondamentalmente Slash scappa dalla Stockgen e il suo obiettivo, anche perché glielo ha inculcato la Stockgen stessa, è proprio andare a cercare le tartarughe, e quindi vediamo che inizia ad annusare i posti che sono frequentati dalle tartarughe, tra cui il vicolo dove Michelangelo si trova con il pizzaiolo Woody, quindi spaventa anche parecchio Woody, non so se gli fa del male, non lo scopriamo in questo numero, e il furgone di April, e infine le fogne dove si trova appunto a combattere e a sopraffare le tartarughe. Le tartarughe che tra l'altro stavano cercando un nuovo posto dove vivere, e pare che stiano cercando una sorta di bunker che si trova sotto una vecchia chiesa abbandonata. Questa vecchia chiesa abbandonata io l'ho trovata anche una citazione al fatto che Shredder abbia la sua base operativa in una vecchia chiesa abbandonata nel cartone nel 2012. Fatemi sapere se anche in altre incarnazioni, perché non me lo ricordo in questo momento. Fatto sta che il numero appunto si chiude con questo cliffhanger, nel prossimo numero vedremo palesemente che continuerà la battaglia tra Slash e le tartarughe ninja. Ripeto, francamente a me dispiace molto quando Slash ha un aspetto così simile a Tocca, perché l'avrei proprio fatta diversamente, però è un personaggio comunque affascinante che continuerà ad affascinarmi anche più avanti nel corso di questo numero. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, che sarà sicuramente quello delle tartarughe ninja sabato o domenica prossima, a seconda degli impegni del canale, e io vi dico anche arrivederci al prossimo evento, alla prossima live, seguitemi su Instagram e vedrete quale sarà. Grazie e arrivederci.